farvi vedere con questo breve filmato come ho cercato di risolvere i miei problemi di antenna senza dover salire sul tetto della mia casa praticamente ho installato in questo punto il balum 4 a 1 può notare la scatoletta sul trave isolatore dove parte l'antenna a filare fatta con del filo smaltato da 0,7 mm dopodiché il filo viene a scendere per raggiungere dopo 10 metri di discesa questa staccionata dove si può notare il punto di arrivo con l'altro piccolo isolatore come potete notare sono in mezzo delle case circondato da altri fabbricati che non mi permettono di vedere l'orizzonte e alcuna apertura valida comunque sono chiuso ecco fra le case tornando all'antenna il contrapeso segue il trave sottotetto trave in legno il filo scende per questa colonna per farlo breve a vedersi scende per questa colonna raggiunge questa struttura in metallo è stata fatta per sostenere della delle piante ecco nel giardino tutto qua questa è una piccola antenna che mi permette di di uscire in aria in qualche maniera speriamo in bene ok ecco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.